C'è il Don, buongiorno Don. Ciao Antonio. Oggi sono sono poetico. Bene. Ogni tanto fate danzare anche la vostra anima. È bello. Ma che bello. È bellissima questa. È bellissima. Ogni tanto fate fate danzare. Facciamo danzare anche la nostra anima. Tutti. Sai che ci proviamo con la musica? Ci proviamo subito con la musica. Tanta voglia di lei cioè della nostra anima. Ciao 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 ciao.